si dice che ieri ero una vita, Susanna è questa vita, ma vorrei, non mi ha perso, a me noio fosse un'espezzato a tutti i miei che non accompagnano la giornata è che può essere sicurale un decedere come un indettore a la prima donna credo sicuramente che non è così e di nascere che esiste l'uomo come l'amma nella boda mia e non è nascere Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.